Il titolo è il produttore di Rossano? Ma stiamo scherzando? La domanda? È una domanda. Dopo quello che succede, per cattiva, per abitudine, non si sono messi a disposizione. Nelle volte i problemi sono creati per ragioni personali e non per i garanti di un servizio. Quando si è sollevata la questione del reparto coppia, ho sempre detto che l'ospedale non è uno stipendificio, l'ospedale deve curare. Qualcuno è in commissione di disciplina, ma ci sono poi dei rispondenti della procura che andranno avanti con le immagini e vedremo a che cosa porterà. Io ho ricevuto la bellezza di 53 telefonate in mezzo a giornata. Gente che prima non ti conosce. È curioso di sapere le risposte. Le risposte? No, lei mi mette in crisi con le risposte. Terrestre.